ciao a tutti questo riconoscimento mi piace da morire l'ho ricevuto durante il periodo natalizio e adesso vi dico cos'è ottava edizione premio vincenzo crogitti international a marco leonardi attore internazionale in carriera ve ne sono veramente molto grato mi avete fatto tanto tanto felice spero quanto prima di poter essere di nuovo in mezzo a voi darci un abbraccio che questo ci manca da un bel po di tempo siamo ormai prossimi alla fine dell'anno 2020 quindi andiamo per il 21 dove tutti ci auguriamo di poterci abbracciare e vederci di nuovo di persona comunque per ora grazie per questo riconoscimento ma veramente tanto un abbraccio a presto ciao